ciao questo filmato non ha molto legame con il canale è una specie di scoperta che ho fatto oggi pulendo questo coltello è un coltello che aveva mio padre e ho scoperto questa scritta sul sfodero questa scritta dice da luigia luigia il nome di mia madre e quindi questo questo coltello era un regalo che ha fatto mia madre a mio padre ecco è un coltello austriaco stiamo parlando ovviamente di tempi recenti ma di tempi fa posso dire il nome sinceramente non riesco a pronunciarlo spero che si veda cioè il nome della marca è un coltello da caccia e oggi stavo affilando lo e stavo provandolo e guardando ecco appunto nel retro del del fodero ho visto questa scritta diciamo che questo filmato è un omaggio a loro due grazie a tutti ciao grazie a tutti 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 Grazie a tutti